ciao c'è un link che oggi noi facciamo la nuova rubrica cosa pensano i bambini dire le bugie è giusto dire le bugie? no sbagliato si possa dire qualche volta le bugie? si risposta giusta prova a dire qualche bugia su di me che sei bravo bella questa sei rimasto male abbastanza posso dire le bugie dando la colpa agli altri? no sbagliate risposta prossima chi dice più bugie di tutti? nikita edoardo una volta sai che ha detto che era in costa azzurra e ha detto che taglia questo pezzo dai meglio una brutta verità che una bella bugia? meglio verità ma non lo so qualche volta magari qualche volta io le sorelle dico sempre le bugie e gli dico per la verità però alcune cose non posso dire per cui ti amico scherzavano per promettere che non direi mai più le bugie? non posso neanche io bye bye passiamo alla prossima persona è giusto dire le bugie? nooo l'avrai detta qualche bugia eh una migliori ne hai detto i bambini sono fatti i bambini sono fatti così puoi sentire le bugie? no ah si alcune volte si che c'è la telecamera e da foto scherzo l'avrò di a te trenta eh ciccherina oddio anche di a te una bugia che sei intelligente cosa hai schiacciato? hai schiacciato gli applausi allora quando no io si te muove sono io che non le do mani no io muova tu c'è un segnale abusivo guardie pu pu è una bugia pazzo ma c'è ma c'è ma c'è ma c'è ma parola 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 quante volte l'avrai detta la bugia? 100 euro un miliardo giusto? 4 trilliardi mamma non mi hai sentito vero? tipo che hai preso 10 a scuola ok no go oh ho qui rigenerata l'intervista mettete Nikita like e iscrivetevi al canale Nikitos λα pou ecc è ecc 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 Grazie per la visione!